perfetto mi sentite si 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 ok ragazzi siamo tornati a fare le whitelist buonasera a tutti bentornati mi sentite bene si si ok buonasera va bene c'è questo qui che è stato dimandato per devi fare il bg non aprire il background aprire il background deve far esperienziare p l'unice da 7 la quanta che gioca gioca da tre mesi grazie 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 Un punto docs, mamma mia. Non lo scarico. Ciao. Ciao. Senti, puoi mandare il background in formato txt? Cioè, tu devi mandarlo come messaggio, poi ti chiederà di mandare un txt e manda il txt. Perché se manda il docs io non lo scarico. Eh, col testo non me lo fa mandare, mi chiede troppo lungo. Eh, ma ti dirà l'opzione, manda formato file. Lo manda su background pc così? Sì, devi prendere quello che è scritto nel file, nel doc, ok? E lo butti in txt, cioè mandi prima il modulo, ok? E insieme al modulo mandi pure tutto il background. E ti dirà, troppo lungo, o ti nitro, o comprimi in un file txt. Ti chiederà. Allora, vedo se così ora lo manda. Ok, soltanto che ci sono delle date che non sono giuste. Vedi, te lo manda così, perfetto. Questo posso scaricarlo io, per esempio. Perché il docs non mi fido di scaricarlo io. Ok, l'ho mandato così il messaggio di txt, soltanto che c'è una data sbagliata. Va bene allo stesso? Ah, beh, fai sì, fai lo stesso. Sono più di mila caratteri, se sono più di mila caratteri, ok. Allora, mettiamo solo, che sono i... Grazie per il follow, Souza1251, benvenuto. Allora, sono in live, è un problema per te, eh? No, è indifferente, è uguale. Ok, allora parlavi intanto del tuo background. E Nick, lo scrivo così in questo modo. Ok, il mio personaggio, Nick, si chiama Aaron, è nato nelle Hawaii, da una famiglia molto ricca. Dove il padre era un venditore di yacht di russo. Soltanto che quando... E crede tutta questa cosa fin dall'infanzia. Finché nel 2021 gli piombò la dea in casa e arrestò il padre. E da lì scoprì che era un... Che come professione era un criminale. E da lì riciclava soldi sporchi e faceva affari con il cartello messicano. Quindi il suo primo problema all'inizio era quello di scegliere con che abito uscire. Oppure se uscire di casa con una Ferrari o con una Lamborghini. E ora il suo primo problema era accumulare un paio di soldi per avere uno stipendio. Perché gli agenti di polizia gli avevano cacciato tutto. Da lì, a causa di questa questione economica, si allontana dall'Hawaii e si trasferisce a Napoli. E dove dopo un po' di tempo gli arriva una telefonata da un parente. E scopre che una persona anonima aveva ucciso suo padre che era detenuto in un carcere di massima sicurezza. Da lì Aaron, visto che il personaggio si chiama Aaron, vaga per le strade di Napoli tutto furioso. Sperando di trovare di fronte a questa persona anonima. Ma non si scrive queste parole, Nick? E da lì si iscrive a una nuova palestra. Allora, Souza dove conosce il proprietario che era sopravviato. Da lì diventano molti amici, fanno serate notturne insieme, locali, stanno sempre insieme e si mettono in appari in legali. Da lì scoprono una persona molto più grande di loro, che si chiamava Uccio. E aveva come loro obiettivo ucciderli entrambi. Ok, taglia un po' il discorso adesso e dimmi un po' cosa vuoi fare qui in RP, cosa vuoi fare nel server? La vita è illegale. Illegale? Sì, sì. Ok. Bene, allora partiamo con le definizioni basi. RDM e VDM, definizioni. VDM è investire una persona senza una valida motivazione in RP. RDM è uccidere una persona senza una valida motivazione in RP. Ok. Metagame, definizione. Metagame è usare informazioni prese fuori dal gioco o all'interno del gioco. Ok, il Metagame IC invece che cos'è? Metagame IC, ovvero Metagame in Character. E quando... Ti faccio un esempio? Sì, sì. Spiegami prima la definizione. Metagame IC è un metagame, ovvero in Character, ovvero un metagame che si svolge all'interno del gioco. Ok, fammi due o tre esempi. Riconosci una persona mascherata dal veicolo, dalla voce, oppure dagli abiti. Ok. 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 Va bene, un attimo solo qua. Sì, sì. E definizione di Carjack? Carjack è rubare un veicolo senza una scena RP. Rubare un veicolo senza scena RP, ok. E definizione di No Fear invece? Non simulare la paura in un momento di pericolo. Cosa? Non simulare la paura in un momento di pericolo. Ok. Mi fai cinque esempi di No Fear? Qualsiasi esempio? Sì, sì. Ok. Vado in giro con la macchina per rapire una persona, la punto con la pistola, tempo regge senza salire in macchina. Poi... Nuotare al mare senza avere paura degli squali oppure della profondità, eccetera. Andare nella zona di caccia senza armi, entrare all'interno del South Side come civile e non come gangster. E poi... Fare azioni criminali nei pressi di Forzancudo. Ok. Ok. Cos'è il revenge kill? Revenge kill? Sì. È quando una persona ti uccide e tu respawnando ricordi tutto e ti vai a vendicare. Ok, parola di respawn. Dopo quanto tempo ti ricordi ciò che ti è successo se respawni in ospedale? Eh, se respawni non ti puoi ricordare niente. E se ti rianima un medico? Dopo un'ora circa, però hai la mente un po' fuscata. Si può lutare il poliziotto? I poliziotti non si possono mai lutare. In realtà no, si possono lutare solamente i medikit e i poliziotti. Ok. E... Durante i rapimenti... Durante i rapimenti mi pare che si possono... No, sempre si possono lutare i poliziotti. Ok. O i medikit. Solo i medikit però. Però si possono sempre lutare i poliziotti solamente i medikit in qualsiasi azione, in qualsiasi situazione. Sì, durante i rapimenti puoi toglierli la GoPro, cioè le varie dispositivi elettronici, però poi devi darglieli. Ok, ho capito. E... O romperli, diciamo. Si può rapinare i laboratori in una whitelist? No, in nessun momento. In nessun momento, sei sicuro? Sì. Ok. Un dipendente di un locale può compiere azioni illegali? Quando è fuori dal servizio. E un titolare invece di un locale può compiere azioni illegali? Un titolare, da quanto ho letto, può compiere azioni illegali, sì. In servizio anche? In servizio no. Allora, devi dirlo. Fuori dal servizio. Però mi pare che deve avere la fedina penale pulita per avere un locale. No, quella è una cosa RP. Comunque. Si può spostare un corpo afferito durante un'azione? Sì, si può spostare. Ok. Mi fai cinque esempi di power game? Ok. Abusare della terza persona. Usare dispositivi elettronici in acqua, come telefono o radio. Usare veicoli sportivi sulle montagne. Per poter vedere se usa, ma stava facendo una whitelist. Oppure, con dei SUV, superare il limite di velocità sulle montagne. Di certo un SUV non può andare a 100 km orari su una strada serrata. Utilizzare rampe con le auto. Vanno bene o te ne faccio ancora qualcun altro? No, no, va bene, va bene. Cos'è un permalett? Permalett è quando il tuo personaggio in gioco, oppure quello di qualcun altro, muore definitivamente. Ok. E come si può fare un permalett? Allora, per fare un permalett si deve aprire un picket. E devono esserci dieci motivi validi per far sì che questo permalett avvenga. Si può tentare soltanto una volta e si ha sette giorni di tempo. Ok. E per chi viene permato invece qual è l'evolamento? Per chi viene permato, niente, deve cercare, deve comportarsi normalmente, perché durante il ticket, mi pare, viene avvisato che è stato aperto un perma su di lui. Soltanto che se prende queste informazioni da Discord viene considerato metagame. No, non viene avvisato una persona che c'è un permalett suo in corso, perché sennò sicuramente non si farebbe più trovare. No, semplicemente il permato non può riportare le persone che siano simili con la storia, non può portare la stessa storia all'EP quando viene a fare un nuovo personaggio. Sì, deve cambiare totalmente. Mi pare che se vuole riniziare una vita criminale deve aspettare almeno 15 giorni. Esatto. E se questo perma fallisce servono altri dieci motivi validi, diversi da quelli di prima. In un'azione illegale si possono utilizzare le armi automatiche? Dipende da quale azione si svolge. Cioè? Se si va nei campi di droga alcuni, ad esempio quelli di coca, si possono usare le armi automatiche. Ok. E in quanti membri si possono, in quanti membri possono partecipare in un'azione illegale? Eh, appunto, varia secondo l'azione. Comunque le free room, in quanto? L'azione free room, 10 criminali, 14 poliziotti. E in un negozietto? A un negozio, due criminali e due poliziotti. Nessun ostaggio. In entrambi i casi mi pare che si usano solo pistole. Ok. Qual è il raggio di disingaggio di un'azione free room? Eh, cioè? Cioè, tu disingaggi dopo quanti metri? Un'azione free room? Eh, l'ingaggio è entro 500 metri, mi pare. No, 300 metri. Ok. Un poliziotto può essere corrotto? Un poliziotto, sì, può essere corrotto, ma deve aprire un ticket, deve avvisare lo staff. Quali sono le safe zone? Le safe zone... Intendi le zone neutre? Le safe zone? Eh, ospedale. Ah, le safe, ok, ho sbagliato io. Eh, sono la chiesa, l'ospedale, il negozio di vestiti, tatuaggi, maschere e parrucchiere. E poi che altre zone ci sono? Ci sono le zone rosse... No. Di guardo le zone safe, cosa ci stanno anche? Le zone neutre e le zone semiseife. Le zone semiseife quali sono? Le zone semiseife sono i locali e le centrali di polizia. Le zone arancioni quali sono? Le zone arancioni sono delle zone che assegni il cartello personalmente alle mafie e i partecipanti di questa mafia non devono dare questa informazione a nessuno e devono difenderle personalmente e lì possono raccogliere gli additivi per le zone rosse, come ad esempio il campo di droga. Le zone rosse quali sono? Le zone rosse sono tutte le zone dove... di raccolta e di processo droghe. E la vendita invece no? Come? La vendita invece no? Vendita no. Perché? Perché la vendita può avvenire in qualsiasi punto della mappa, non c'è un punto specifico. Quali sono le fazioni neutre? Le fazioni neutre? I medici sono. Sono i medici. No. In che senso fazioni neutre, scusa? Non sono i medici. Eh... Le fazioni neutre... Non ci sono fazioni neutre. Ok, ci sono anche... Sì, ci sono anche... Ci sono anche altri. Oltre ai medici come fazioni neutre cosa ci sono? C'è il concessionario e l'armaiolo. Ah, le zone? Mi hai chiesto le fazioni come persone, penso. Sono fazioni? Sono concessionario e l'armaiolo. Mi sono confuso. Pensavo allora che non intendevi le zone. Bene. Ciao Tony, buonasera. È possibile fare assalti a un convoglio? Eh... Sì, è possibile. Dove non è possibile farlo? È sempre possibile farlo. Non è vero, no. Non lo puoi fare ai negozietti e alle fliche. Io andrò a Marijuana. Allora... Ok. Gli elicotteri si possono usare in azioni Froom? Sì, si possono usare. Qualsiasi azione Froom? Tutte le azioni Froom, no. Ad esempio, un salto a un convoglio o l'elicottero non si può usare. In realtà l'elicottero o la polizia può usarlo... La polizia può usarlo solo in determinate zone, in realtà. Come? Un attimo solo. Matt Mari, grazie per l'elaboramento. Benvenuto. Grazie mille, Matt Mari. Borghesino, sì, ha sbagliato un po' di cose, ma... Ma vediamo. Grazie ancora per l'elaboramento, Matt. Ok. La polizia in realtà può usarlo in determinate zone. Comunque sì, si può usare in generale... In azioni Froom? In azioni Froom, sì. Sì. E l'uso della maschera come è consentito? Come? L'uso della maschera, in che ambito è consentito? Allora, l'uso della maschera è consentito nell'ambito di... Gang, clan, mafia e il cartello. Ok, quindi, in generale? Per azioni criminali. Ok. L'assalto alla centrale si può fare? L'assalto alla centrale si può fare, ma c'è bisogno di valide motivazioni RP. E come funziona l'assalto alla centrale? Allora, l'assalto alla centrale mi pare 12 criminali e poliziotti devono essere limitati. Possono essere limitati, ma si limita in base al numero di poliziotti che girano in città. Ok, devi aprire un ticket, cosa devi fare? No, c'è bisogno di valide motivazioni RP, il ticket non serve più. Allora, devi fare vera combattia da un admin. Ok. Va bene. Sapevo che c'era soltanto bisogno di una valida motivazione RP. Ad esempio, hanno preso in ostaggio il mio capo che risca l'ergastolo. No, in realtà devi rilevare una motorizzazione. Va bene. Si può lootare le persone durante i ravimenti? Si possono prendere le sim e tutti gli oggetti, ma poi devono essere restituiti. Come pensi di essere andato a un whitelist? Discreto. Che significa? In alcune cose non ti ho saputo rispondere, quindi 50 e 50. 50 e 50 vuol dire quindi che sei a rimandare? Allora penso di essere andato benino. Spero di essere andato bene allora. Diciamo che hai fatto un po' di errori, eh. Però... Diciamo... Hai fatto anche tante domande. Guarda... La whitelist... Te l'ho detto. Te l'hai guadagnata. Davvero? Sì. Oh, sono felicissima. Hai seguito la whitelist. Adesso... Vediamo un attimo l'ex. Diciamo che in compenso ho trovato tante e tante domande, ma in compenso ho riuscito a rispondere sempre correttamente. Quindi diciamo che... Ok. La proporzione delle domande giuste e quelle sbagliate ci sta. Ok, ti sto mettendo la whitelist. Una decina di minuti puoi entrare, ok? Va bene. Tirito i ruoli, un attimo. A posto. Buona... Buona serata. Ciao. Ok, ciao ciao, grazie. Ciao. E quindi sì, ha passato la whitelist. Ma in che senso quanto gli si è fatto pagare, Matt? Se l'hai guadagnato? Gli ho dato un sacco di domande, gli ho fatto. Tanto devo dare il risultato del pronostico. Bene. Comunque ragazzi, vi vorrei fare punto schermativo comandi per vedere tutti i comandi disponibili. Punto schermativo yt per iscrivervi al mio canale YouTube. Quindi ragazzi, fate tutti i punto schermativo yt in chat, così potete iscrivervi al mio canale YouTube per vedere le repliche appunto delle live che faccio. Mi aspetto su YouTube, mi raccomanda. Grazie. Vabbè, sì, ce l'ho. Curso, guardate, yt. Grazie. 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 Allora, eh sì, c'è l'ho, comunque adesso ne faccio un'altra. Un attimo su, ragazzi. Un attimo su, ragazzi. Un attimo su. Un attimo su, ragazzi. 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 Un attimo su. Un attimo su, ragazzi. 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 Grazie a tutti. 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 Può autorizzarti un admin o un edadmin in caso di fare la whitelist oppure con la voce bianca e in caso di farti prendere il pet da bambino. Però solitamente lo si dà a chi già sta nel server e che lo sceglie appunto che sta già nel server. Come potrei parlare con un admin? Scrivendoli in privato a vedere se ti risponde senza insistere. Quindi posso scrivere in DM? Sì, però senza insistere. Quindi scrivi un messaggio, se non ti risponde non glielo riscrivi. Va bene. A posto. Mi hai rimandato per il voce bianca, grazie. Esatto. Ciao. A rivederci. A rivederci. A rivederci. Questo è nuovo. 14 anni, ciao. Occi. Rover P. Grazie per il follow, benvenuto. c'è 14 anni questo e poi ha l'account creato l'altro giorno ciao ciao buonasera mi senti stai in white list senti senti oi non mi senti sento di sistemare il problema audio poi torno ok boh peppe f per me felix è tu questo felix tu eh sì sei tu f per te che descrizione particolare vabbè comunque vediamo peppe ah se l'è andato niente aspettiamo un po' sarà che mi raccontate ragazzi che mi raccontate sarà tutto bene niente aspettiamo white list sembra anche assistenza noi guardi se l'assistenza ci stanno tutto bene borgasino bene dai f c'è ancora f e che si è tornato hai già la huella borgasino quando l'hai fatta? fiammela pure qua domanda non c'è bisogno che ti sposto puoi fiammela tranquillamente qui la domanda vediamo come hai fatto la huella di spurgasino non ti trovo su discord non so come ti chiami venga qua borgasino eh l'hai scritto non me la dà la menzione borgasino non mi dà la menzione non mi dà la tua menzione mi dispiace non ti trovo è tornato peppe con l'account nuovo del di oggi perché stai mandato peppe se n'è andato niente hai deciso vediamo l'id vediamo tramite l'id se ti trovo ah ecco qua l'hai fatto il primo di luglio la white list l'hai fatta vediamo se peppe c'è ciao peppe buonasera senti peppe non ti sento peppe non ti sento peppe peppe non ti sento peppe si stava la prova di audio e torna ok vediamo vediamo in privato ho avuto la screen ok se guardo sai sai dove gioca quello non è 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 lui gioca su impero no no white list che risulta la stessa dicitura risulta la stessa la stessa descrizione semplicemente gioca su impero gioco su impero o white list ecco la seba che stai giocando qui ciao sicura tutto bene tu c'è row row l'ho già visto guarda ti distrugiamo player momentaneamente vediamo la voce bianca oggi vediamo cosa vuole ciao 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 buonasera ciao buonasera dopo rivero la white list ma io è vero che si sono rimandato per voce bianca row io cioè dicio praticamente mi avevano detto che ero lì per cioè non siccome da oggi alle 2 oggi alle 5 6 si cambia la voce cioè oggi torna tra un mesetto vabbè ora ho visto che si la poi se mai ti spiego ma eh lo so però purtroppo non posso ridire su un'altra staffer se una staffer ti è rimandato oggi devi per forza tornare tra un mesetto ok va bene va bene posto ciao e niente mi scrivo che è tornato sicura tu come stai invece tutto bene va bene lotto ci aspettiamo allora torna pure a rifare la whitelist è tornare noto ti aspettiamo allora segura perché domani parti va bene ok allora ci vediamo quando turni perché se supporto staff e non helper tipo borghesino perché sono un supporto staff perché appunto su aiuto lo staff facendo assistenze facendo whitelist sono un po un supporto staff appunto ero moderatore io fino a poco tempo fa stavo ero moderatore io ero mod appunto ero moderatore poi ho chiesto di permettere il supporto staff appunto perché non ho più molto tempo fa l'assistenza a pieno tempo perché non c'è da lavorare quindi aiuto quello staff come posso vabbè io sono tornato dopo un anno sempre voce bianca eh Felix purtroppo purtroppo la voce non dipende da te purtroppo cambia quando vuole lei purtroppo questa è la natura umana c'è che nella barra dei mandati come si chiama chi bin in che senso chi bin chi bin non trovo nessun chi bin ciao anton fn ciao buonasera chi bin in punto non va vedi non lo trovo non lo trovo deve darmi anche l'hashtag se riesci io dovrei avere un last chance forse controllo borghesino vediamo vediamo un po' no i warn 1 e warn 2 borghesino i warn 1 e warn 2 che te ne sei presi il 5 il 5 del 7 tutto bene anton tutto tutto bene eh si ho letto borghesino chi bin è hashtag 62 95 vediamo hashtag 62 95 niente non vediamo qua menzioni ok eccolo qua 9 risultati diventato beh se bisogna di moderatore ci sono e magari vediamo se ti vedo presente in chat borghesino appunto volentieri possiamo vedere volentieri se ti vedo presente tutte le live che ci sei che interagisci con la chat tutto quanto ti possiamo vedere volentieri di vittati mod poi vediamo ok devi farti notare appunto ma se non vuole me l'avevi già chiesto se non erro tu me l'avevi già chiesto esatto una cosa un po' di tempo fa se ti vedo appunto come la scorsa volta che ti vedo un po' più di volte va bene che non ci sei sempre sempre ah bene a sapersi allora vediamo dai oggi i white list non ce ne stanno eh purtroppo ai 15 anni la voce bianca a 15 anni è molto facile avercela no non posso fare le assistenze in live a borghesino non posso farle poi martedì solita live dei processi in live io porto le white list ogni tanto il weekend quindi sabato domenica e martedì porto i processi appunto col pad da giù c'è con il pg da 12 c'è con l'oretta un'oretta e mezza di solito le voci cambiano in estate è vero ti posso dirmi sì solitamente cambiano in estate hai ragione hai conosciuto molta gente che ha cambiato voce in estate io stesso ho cambiato voce in estate ok vediamo se cambi voce puoi puoi venire ciao danni scudo io ho un last chance tra l'11 marzo 2021 che mi avevi messo tu credo puoi contare per fuori click x ok vediamo un attimo ciao matteo buonasera c'è tipo basta però sembra femmina vabbè dai diciamo baco dio ciao 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 Borghesino scrivi in chat Borghesino scrivi in chat Perfetto Allora click x vediamo un attimo un po' qua Last chance chi te l'ha messo Non lo vedo qua vediamo un attimo Menzioni Penso che last chance ti fu messo per voce bianca quando hai fatto la whitest di gruppo quando sei entrato Menzioni pensa che per questo motivo qua vero Borghesino mi raccomando Grazie a tutti 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 sì allora per farlo togliere poi aprire anche un semplice ticket in assistenza se apri un ticket e chiedere lì appunto un admin se si può togliere appunto il last chance e lì poi appunto vedi se si può si può togliere ma poi comunque fa passare le huele a quelle con la voce bianca ma non penso le faccia passare magari sono uguali di st group appunto come anto fn ha ricevuto un last chance perchè aveva la voce leggermente bianca quando aveva fatto la wiretista grazie 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 Sì, c'è ancora bianca Sì, mi dispiace Devo riprovare È ancora la voce bianca, le provo tra un po' appunto Ok Arrivederci, Dani Ciao, dopo le ferie Ciao E niente, ancora la voce bianca, sicuro Bene, ragazzi, mi raccomando appunto scrivere tipo Yt per iscrivervi al mio canale YouTube A vedere appunto le repliche, ragazzi, mi raccomando Mamma mia Non c'è nessuno che fare Yt per iscrivervi al mio canale YouTube Grazie a tutti Grazie a tutti Ragazzi, ma quando scrivi al canale YouTube appunto come scrive Gorghesino Ma per fare il petto da bambino Il genitore tutt'ora si deve avere in partenza o poi si può tornare avanti con l'RP? Oddio Beh, devi per forza avere l'impartenza Quindi devi proprio fare... Se vuoi fare l'RP da bambino devi presentarti già con i genitori L'idea di cosa vuoi fare E poi c'è tutto l'RP da seguire Quindi deve essere tutto già pronto L'RP da bambino devi organizzarlo prima di poterli farlo Grazie a tutti Vabbè, i tuoi miei genitori devono essere ovviamente altri giocatori del server Magari se sei un gruppo di amici Due fanno i genitori e tu fai il bambino Però sono sempre cose che devi organizzarti prima di venire a fare l'RP da bambino Grazie a tutti C'è quello che vuoi? Vediamo un po' Spostiamo Ciao 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 caro, guarda Per farla whitelist devi compilare i moduli che trovi di sopra Scusami, aspetta, allora Perché io ho messo background e modulo whitelist Ho inserito la roba che scrivono tutti No, non ho scritto nulla tu Come no? C'è ricordato di scrittere te Ah ok, si è scritto, perdono Non trovavo prima il messaggio Perdonami Non si preoccupare RP, esperienza RP 1 cosa? Ho fatto un'esperienza RP Durante la pandemia Dovrebbero essere quattro mesi Quattro mesi che fai RP Poi dopo però Non hai fatto nulla per un bel po' di tempo Sì, perché dopo mi sono fermato Che mi sono spostato su altri giochi Poi avevano chiuso il server Per questioni riguardanti al fatto che comunque Non era whitelistato il server E a causa di problemi Poi dopo l'hanno reso whitelistato Hanno buttato fuori tutti Comunque è vero che tu sottostima Hai solamente due ore di gioco su FEDEM Sì Sono troppo poche per questo server Ok Quindi fai un po' l'esperienza RP Ok Ok Un centinaio di ore Ok, quindi saranno qualche mesetto E in frattempo Se vuoi fare esperienza RP Appunto come ti dicevo Puoi giocare sul server whitelist No, no whitelist impero Ok Non sai qual è il no whitelist impero? Sì, no, l'ho visto, l'ho visto Ok, puoi giocare sul no whitelist impero Tranquillamente lì puoi giocare Anche con usare esperienza Appunto per poi fare Quindi l'academy Ok, imparare a giocare E poi venire appunto A giocare qui da noi Va bene Grazie Ok, dai Ciao Comunque Anto Non ti avevo ringraziato per il follow L'ho visto ora Grazie per il follow Non so Ti avevo ringraziato Anto? Ermattaxone Ermattaxone Erpelle Vediamo un po' qua In mezzo 48 Tu devi studiare tutto bene Le guanze dell'impero In mezzo 24 Devi bastare bene Le guanze dell'impero Devi parlare con Gila Per la guanze legata Eh, però Gila Non c'è più Quindi Non è più Non lo staff Quindi Alla guanze legata Di conseguenza Vediamo un attimo Guarda Non Non sto capendo Usare il Discord Il D Che è più semplice Eh Sì, sì Non ti preoccupare Lo so bene Lo so bene Però Non so La dimensioni Non sono solo queste C'è sì mi sto informando va bene ora vediamo se mi sto informando possiamo rifarlo vediamo un po' qua ci sono tutti i moduli allora sei esperienza di più un anno vediamo un attimo qua c'è steam non lo trovo vediamo se ce l'ha non c'abbiamo lo steam qua abbiamo una è un'esperienza di IP il background quant'è? quante caratteri è il background? 2048 caratteri è proprio giusto giusto abbiamo un po' ma spostiamo ciao 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 buonasera ciao quanti anni hai? 16 16 anni ho visto che hai parlato a fare le white artiste era stata legata tempo fa giusto? si fra però intanto avevo contattato un coso che si un non mi ricordo come si chiamava mi hanno detto che ho contattato un moderatore che si chiamava non mi ricordo vabbè comunque ho letto ora che non è più legata non c'è più scritto si 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 non c'è più ok allora si quanto fa il IP? io da due anni quasi da due anni cosa che fa il IP? ok bene ho visitato molti server molti molti mo da poco mi era aperta una gang su emeralds ma mi è andata bene come mai? eh perché tipo eh non lo so tipo la gente non c'era e me l'hanno disattivata ok vabbè e la quantità se possiamo rifartela va bene parami un po' del tuo background intanto del mio player? del tuo background si ah vabbè si chiama Johnny Green e è un ragazzo che avevo scritto e tipo era stato i genitori di non c'erano e mi è cresciuto con lo zio e sia africano che americano ma non mi ricordo il nome come si dice te lo ricordi il tuo background? no no non è che non mi ricordo il mio background è che non mi ricordo come si dice africano o americano afroamericano afroamericano bravissimo e che poi gli muore lo zio e per problemi dove stava lui è dovuto sbarcare nella città d'impero quindi ha preso il primo volo ok che tipo di rp vuoi fare nel server? eh io vorrei fare un rp diciamo illegale un rp legale? cioè girare nell'illegalità sì illegale o legale? no illegale illegale sì 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 ok e vabbè parliamo un po' delle definizioni di base definizione di rdm e vdm allora l'rdm è uccidere una persona senza una valida motivazione rp e vdm uccidere una persona con un veicolo ok definizione di power game allora il il power game è compiere cioè abusare delle meccaniche di gioco di gta 5 quindi compiere azioni che non si potrebbero fare nella vita reale sfruttando le meccaniche di gioco di gta 5 mi fai 5 esempi di power game allora portare in braccio una persona mentre si corre avere troppo peso nell'inventario e camminare sulle siepi 5 giusto? sì parlare sott'acqua e usare la no quello no e e poi ok ah scendere un monte scalzo tipo buttarsi da un monte roba del genere o se no anche non lo so prendere una montagna a 300 km e volare andare con veicoli in cui non si può andare sullo sterrato roba del genere va bene ok ok mi senti? un attimo ok 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 e e mi dà la definizione di metagame? metagame allora vuol dire usare informazioni fuori rp quindi ottenute non da gioco ok ok che potrebbe essere tipo sapere informazioni da discord tramite la chat del del gioco e o se no ti posso dire ah può essere sapere un punto drogo dalla mappa droga dalla mappa perché queste informazioni non le puoi sapere da solo ma te le dovrebbe dare una mafia se non sbaglio se potrebbe no ripeti un attimo come? ripeti un attimo gli esempi l'ultimo tutti tutti quanti allora sapere un punto drogo dalla mappa un punto droga dalla mappa informazioni da discord o tramite chat e poi avanti avanti eeeh che senso avanti avanti con gli esempi fanno ancora un po' ma i coc? esempi di metagame apurici va bene allora riconoscere una fazione dai vestiti una persona dalla voce o anche eeeh una persona dalla maschera e basta poi non me ne viene un altro o può essere tipo in una rapina non devi non c'è non ti devi aspettare i tuoi poliziotti che stai facendo un negozietto perché quello potrebbe essere metagame che almeno un tizio che mi ha fatto la voce l'altra volta mi ha detto così mh si sei sicuro? ma io gli ho detto che non potevo cioè non si non si doveva sapere quanti poliziotti quello era metagame mh pitbull si chiamava vabbè poi vediamo un attimo diciamo vediamo un attimo un paio di due esempi di metagame di power game senza senza diciamo che riguardi il peso il borsone appunto macchine senza che c'entri l'inventario macchine odore del personaggio va bene potrebbe essere tipo andare in un'altra isola a nuoto tipo pure al cartello non so o ripeti un attimo andare in un'altra isola a nuoto mh è power game tipo dall'isola normale adesso provo un po' caccina adesso provo e non me ne vengono altri ok ah se no prendere un player e correre con l'essenza l'inventario il peso dell'inventario mh sì le zone le zone arancioni quali sono? allora le zone arancioni vengono assegnate dal cartello alcune mafie e quelle mafie dovranno difendere quelle zone per assaltarle se mi ricordo bene bisogna avere un ticket aprire mh sì ok le zone gialle quali sono? non esistono non esistono? ok non esistono le zone gialle esistono zone oh sta in live da me semi safe arancioni e rosse oh sta in live da me questo che zone sono? che? che zone esistono? safe semi safe arancioni e rosse ok mh le zone semi safe quali sono? semi safe? sì allora potrebbero essere i locali la centrale polizia e la centrale polizia si può assaltare come si può assaltare? di polizia mi sembra si possa assaltare con un ticket con un ticket sì quanti possono essere i criminali? allora i criminali per la centrale di polizia dovrebbero essere eh otto criminali e i poliziotti sono cioè tutti quelli che stanno in in come si dice in in servizio mh sì ah oddio credo che no ci sto ripensando un secondo ma eh non puoi ripensarci mi dispiace ah no mi sembra che non serva un ticket eh cavolo questa ho sbagliato allora c'è bisogno di un ticket invece sì per assaltare la centrale di polizia c'è bisogno assolutamente sì di un ticket oddio ho chiuso il disco un attimo ok ok vabbè allora mi sono sbagliato c'è assolutamente bisogno di un ticket per per assaltare la madonna mi sono chiuso il disco ok perfetto ciao vede loca buonasera mh qual è il drive by? allora ehm il drive by sarebbe ehm il drive by sarebbe sparare da una macchina e cosa si può fare? e mi sembra che lo posso fare le gang neghetti per creare rp o impedire l'altra fazione e assaltare o una roba del genere ok per non so come dirlo per ingaggiare l'altra fazione intimidarla intimidirla ma si può fare il drive by o no? sì si può fare si può fare e chi lo può fare? le gang per intimidire l'altra fazione e per ingaggiare che tipi di drive by conoscono? si conosci? e mi sembra che c'era anche il drive by per no fear se non sbaglio il drive by per no fear? che? il drive by per no fear e se mi ricordo bene sì altri drive by? e ci devo pensare un secondo comunque è è erpelle? sì e stai leggendo regolamento? no regolamento io ce l'ho chiuso è sicuro è sicuro? sì perché mi dai l'aria di che stai leggendo sai? vabbè allora tra l'anno fattelo qui un attimo solo grazie per il follow mercenario mi sa che le cose che sto dicendo manca di che sto stando sul regolamento tutti i ancora mi ha fatto ok ma è stato un ride che non vedo magari grazie per il follow tutti quanti ragazzi benvenuti mi sa che è stato beccato guardavo i tuoi video su youtube sto vedendo a passare le white ah bravo bravo e guarda secondo me tu stai leggendo il regolamento no secondo me sì no bravo fammi altre cose ti provo a dare una botta in che caso è possibile sparare al medico mai mai sei sicuro è perché fuori per una passione safe il medico le gang possono usare i tetti per sparare zona rossa no le gang dico possono usare i tetti durante le azioni tra di loro per sparare e se sono cioè se si può salire sì in realtà non si può no in realtà si possono usare solo per fare la vedetta incontro le altre fazioni e basta no ok 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 ma sparare avevi detto io so esatto eh ho sbagliato allora scusate guarda secondo me tu stai leggendo il regolamento non da impero non dal volio di impero ma dal dal disco di impero l3k perché gli esempi sono gli stessi ma guarda io ce l'ho scritto in ordine sono tutti sono gli stessi tutti in ordine appunto uguali io ti do una possibilità ti do solo una possibilità di rispondermi alla domanda che ti so per fare in modo corretto e in modo leale hai letto le risposte dal discord impero vl3k si o no ricordati che se mi dici sempre in giro ti nego la se mi dici la verità invece ti darò possibilità di farla la prossima volta decidi tu cosa rispondermi guarda la cosa è che l'ho studiato e io mi sono guardato in questo momento stavi leggendo da impero vl3k ho studiato tutte le live di excords gentile rispondi la domanda che ti ho fatto non mi stai rispondendo la domanda che ti ho fatto mi stai dicendo altre cose no no fai parte del discord impero vl3k invece tu stai leggendo appunto gli esempi lì ma scusa ma te come puoi essere sicuro perché erano identici uguali nelle stesse posizioni in cui erano messi mi sto preparato con quello guarda appunto per questo non puoi cioè non puoi usare le stesse devi creare i tuoi queste cose l'aveva detto anche ex course in live io ho letto tutte le cose tu devi crearteli i tuoi esempi devi farteli venire in mente non devi copiare quelli degli altri quelli degli altri servono per farti capire ok il regolamento ma tu l'esempio ti devi fare tu dimmene una che non sono mai detto ma che ne so devi dirmelo tu hai visto sono difficili ovvio che sono difficili però devi tu dirlo quelli della macchina quell'altro quell'altro io che ti devo dire più di quello cioè guarda ti rimando 48 ore è perché stai appunto usando gli stessi esempi che trovi scritti su quel discord quindi scusate dammi te un esempio puoi tornare tra 48 ore di farla white e ti stai detto tanto che non te la nego no scusa mi dai te un esempio che non c'è scritto là ma perché dai te l'esempio scusate è perché non esistono esistono certo ma non è vero assolutamente sì ci sono tanti altri esempi ma dammelo te io non te lo do l'esempio scusami tu devi imparare a fare la whitelist e fare la whitelist io la whitelist ce l'ho e sono anche staffer fra visto che sei staffer e c'è la whitel Dani non farà per favore come te devo chiamare Dani mi chiamo Dani Dani scusa ma visto che sei staffer e c'è la whitel immagino te che come power game o metagame o quello che hai detto te abbia detto le stesse cose miei ma è paleta guarda ti dico se lo staffer mi dice fammene altri tipi io me ne avrei fatti altri dammene ma perché devo detto io devi inventarteli tu prova a simulare una situazione di power game e vedi se hai power game e crea l'esempio ce ne sono milioni di esempi perché power game è quello se tu fai altro per forza hai il tuo bien esempio e non è per forza tenere un'arma pesante però non è per forza tenere tante armi pesanti nell'inventario come magari c'è scritto come esempio ovunque può anche essere qualsiasi altra cosa camminare scalzi sul camminare scalzi anche sull'asfalto in piena estate potrebbe essere power game perché io dubito che tu vada a camminare sull'asfalto appena fatto d'estate ti bruci i piedi eh ma se ce ne stava un altro mi diceva che non era un power game normale come per esempio andare in 85 in macchina quello è anche power game non penso una persona delle persone ci stiano in 85 in una macchina oppure questi esempi non sono scritti sull'impero UL3K se mi chiedevi il sitcar io te lo dicevo no ma il sitcar è un'altra cosa il sitcar è una meccanica di gioco inserita nel server per consentire di salire numero maggiore di quanto è consentito da script ovviamente senza senza infrangere il regolamento e il bello non mi chiede mai insegnare il regolamento perché io penso di saperla abbastanza bene da poter da poter anche non permettermi di risponderti a chiare le tue domande che mi fai in quanto faccio le whitelist da più di un anno e me posso farti una domanda poter risposta per favore dimmi perché mi dovresti rimandare se ho risposto a tutto te non puoi avere la sincera cosa ti rimando perché appunto ho il dubbio che tu abbia copiato il regolamento dimostra la prossima volta allora pelle non urlarmi non alzarmi la voce non parlarmi sopra gentilmente perché veramente la volta che ti nego la whitelist c'è molta pazienza ti sto ancora qui a parlare altri stanno per te però ho detto buona serata e grazie io mi ci sto aspettando ancora poi ti sto facendo parlare e ti sto dicendo che secondo me io tu secondo me tu stai leggendo io non posso attualmente farti farti la whitelist perché io ho il dubbio che tu stai leggendo la prossima volta ti ripresenti dimostri di non stare a leggere ok e lì ti verrà fatta la whitelist se vuoi essere sicuro ok di non essere accusato ti consiglio di lasciare quel discord lì ok no non possiamo fare non possiamo fare le whitelist con la condivisione schermo mi dispiace tornata a 48 ore a rifare la whitelist come lo puoi sapere come lo puoi sapere senti dai perfetto diciamo così adesso non è che ha quittato perfetto 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 ma se io ho voce bianca ma scusate se avevo letto la chat allora ma se io ho voce bianca mi sono presentato con tutti i miei genitori io volevo fare il petto bambino ve l'ho accettato anche senza voce bianca anche se ho voce bianca questo non posso dirtelo io blaze deve autorizzare un admin jack di tv gg perché gg quanta pazienza sì tanta pazienza ma è appunto uno delle facoltà uno delle diciamo delle caratteristiche che deve avere lo staffer è appunto è appunto la pazienza la grande pazienza lo staffer per essere un bravo staffer secondo me avere tanta tanta pazienza tanta 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 pazienza perché mi raccomando sono sempre comunque player quindi bisogna sempre comunque parlarne con tutto quanto ecco quindi con calma bisogna spiegare le cose perché è giusto che la gente sappia ciò che dici che c'è Grazie a tutti. Bene, andiamo avanti. Va bene, borgasino, ci diamo 13 minuti. Eh, mandameli, mandami pure in privato, Anto. Rig con l'account nuovo di Zecca. Ok. Ciao, Rig. Mi senti? Sì. Ciao, quanto ne hai? Ciao, 27. Ok, senti caro, guarda, devi compilare tutti i modi per poter farla guarda su Impero, ok? Guarda, non ho la più pallida idea, ce l'ho guardato giusto poco fa, sto guardando adesso una live di Kertus, così ho appena scoperto che cazzo è sta roba di Impero, com'è che si fa. Ma tu hai mai giocato a 5M? Ah? Hai mai giocato a 5M? No. Sinceramente no. Allora, guarda, qui su Impero devi fare un minimo di esperienze per poter giocare, nel frattempo se vuoi puoi giocare sul... sul server no-whitelist, ok? Dove puoi fare esperienze R.P. Ok, ma cioè, se posso capire un attimo cos'è che bisogna fare... Allora, per giocare sul server no-whitelist... Qualcuno in chat che mi manda il link del no-whitel, ragazzi, comunque faccio appunto un ascolativo no-whitel, ragazzi. Per giocare sul no-whitelist devi entrare nel disco del server no-whitelist di Impero, ok? Dove appunto puoi giocare lì. Dove appunto puoi imparare a giocare, a fare R.P., tutto quanto. Ok. Dai due secondi. Ok, perfetto. A dov'è che devo andare? Ti passo il link adesso, un attimo solo. Ah, ok, ok. Guarda qua, questo qui è il link del Discord del no-whitel. Qui poi premi Entri, premi la reazione del messaggio che trovi in istruzioni, ti dà il ruolo per poter giocare, lì puoi giocare sul server. Giochi, impari, stai qualche mese a giocare lì e poi dopo torni qui su Impero, whitelist e provi a fare la whitelist qua, ok? Ok, e quanto tempo ci vuole? Qualche mesetto. Ok. Va bene? Thank you. A posto, ciao. Bella, ciao ciao. Bene. Grazie. 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 ragazzi quanto è passato è passata un'ora e 40 io direi che sono arrivati si sono arrivati ho visti grazie beccarini però dovresti girarli a strong sai anton provare a girarli a strong e vedere cosa ne pensa lui comunque ragazzi allora io direi che per oggi la live la possiamo concludere qui ma possiamo concludere qui in quanto possiamo stiamo già un bel po in live quindi ringraziato per essere qui con me mi ricordo di fare punto schermativo comandi per vedere tutti i comandi di impero vedete se siete il mio canale Twitch poi se volete giocare su impero basta appunto entrare su impero qua dove sono io farla wildlist altrimenti se no potete giocare su no well dove appunto potete imparare a fare rp facendo punto schermativo no well vi ricordo di scrivermi su youtube per seguire le live quindi le repliche ricaricate su youtube facendo punto schermativo yt e niente ci rivediamo la prossima volta vi saluto vi lascio da mezzogiorno tanto ormai vi lascio da lui perché gioca in polizia quindi ragazzi ci vediamo una prossima live vi lascio da mezzogiorno e buona serata ciao 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 ciao